A poco meno di tre settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico, il MIUR metterà parola fine alla questione vaccini e lo farà assicurando i presidi sul fatto che la responsabilità delle autocertificazioni non veritiere non ricadrà sulle scuole, ma sui genitori che hanno dichiarato il falso. La questione, scoppiata all'inizio dell'estate, ha portato nei giorni scorsi a incontri e riunioni frenetiche tra presidi e ministero, rese ancora più urgenti dalla imminenza della riapertura delle scuole. Un'emergenza sanitaria, quella dei vaccini, frutto di una isteria collettiva nata e amplificata dai social, ma senza alcuna base scientifica e assurda a problema nazionale, dopo alcune dichiarazioni quantomeno imprudenti da parte di alcune personalità politiche. Oggi la vicenda si chiude, anche se solo temporaneamente. A nessun bambino verrà negato il diritto alla istruzione, resta però confermato che le autocertificazioni verranno accettate solo dove le ASL non saranno in grado di rilasciare certificati vaccinali. Via dunque all'anno scolastico, ma la questione vaccini, se continueranno i rimpalli di responsabilità tra i ministeri, rischia di rimanere un fuoco che cova sotto la cenere. Un esempio arriva da Rapuglia, dove molti sindaci hanno emesso ordinanze che vietano l'ammissione a nide materne a bambini privi di certificazioni. Scelte di salute pubblica alla quale devono partecipare anche le comunità locali, dicono i sindaci, ma della scienza, l'unica che potrebbe mettere la parola fine alla questione, non se ne occupa nessuno.